Si registra un pericoloso aumento dei contagi all'Aquila città dopo giorni in cui la curva sembrava scendere. Nel giro di un giorno si è arrivati infatti a più di 30 contagi un primato regionale con la curva che appare appunto è risalita. Preoccupano un po' col potenziale focolaio di San Gregorio nell'istituto Suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari dove ci sarebbero otto religiose positive che però non avrebbero avuto contatti fortunatamente con i bambini dell'infanzia. Sono in corso tamponi per tutti nell'istituto che rappresenta un fiore all'occhiello del territorio e anche ovviamente nell'annessa casa famiglia che ospita invece minori ed educatori. Il Dipartimento Prevenzione della Asda dell'Aquila ha disposto intanto la quarantena per tutti e il sindaco Pierluigi Biondi ha deciso di chiudere la scuola dell'infanzia in via precauzionale. Anche in paese si sarebbero registrati dei contagi in isolamento ci sarebbe anche il parroco della frazione. Nel fine settimana per questo sarà effettuato uno screening per tutta la popolazione di San Gregorio annunciato Biondi. Nei giorni scorsi è stata chiusa invece una sezione dell'infanzia di San Francesco Carla Mastropietro a causa di alcune positività. L'andamento epidemiologico preoccupa non poco tant'è che si è riunita pure l'unità di crisi comunale. Il ricercatore Riccardo Perzio che l'Aquila ha conosciuto in piena emergenza covid per il suo impegno di studio ricerca e grafici parla di recrudescenza del virus. Fa notare attraverso un grafico che in meno di una settimana l'incidenza è raddoppiata dagli 82 casi per 100.000 abitanti di mercoledì scorso sino ai 165 per 100.000 di oggi. Tra i positivi anche quattro studenti stranieri di un programma internazionale. La raccomandazione degli esperti è di evitare cene al chiuso private perché è proprio lì che si vanno ad abbassare le difese creando possibili e pericolosi focolai. Nei comuni del circondario attorno in parte si registrano circa 40 positivi. A Pizzo di 84 ha scoppito circa 30. A Montereale il sindaco Massimiliano Giorgio ha parlato di aumento di contagi significativo e ha chiesto alla ASDA di attivare una linea vaccinale nel proprio distretto sanitario. A Cagnano appena uscito dalla zona rossa ci sono una trentina di casi e lo scorso lunedì ha riaperto i battenti il plesso dell'infanzia di Fossatillo.